Il 10 gennaio 1939 Equinola nella prima assoluta di Il Candeliere di Ezio Carabella diretto da Oliviero De Fabritis con Margherita Carosio, Mario Filippeschi e Tito Gobbi al Teatro Carlo Felice di Genova. Nel 1940 al Teatro dell'Opera di Roma e l'Uomo di Legge nel Re. Opera, diretto da Vincenzo Bellezza con la Carosio. Agnese Dubini, Antonio Salvarezza ed Italo Taio ed Il Maestro nella Campana sommersa diretto da De Fabritis con la Carosio, Sara Scuderi e Giuseppe Nessi e dal Teatro Comunale di Firenze Geronimo nel Matrimonio Segreto. Confedora Barbieri cantato anche al Teatro Politeama, Palermo, e nella Reggia di Caserta. Nel 1941 a Roma e Mischinski, Starosta in Siberia. Opera, diretto da De Fabritis con Maria Carbone. Francesco Albanese, Benvenuto Francia e Tita Ruffo. Dobbigli nella Traviata diretto da Tullio Serafine con Maria Caniglia. Beniamino Gigli e Gino Becchi. Geronte in Manon Lescaut, Don Bartolo nel Barbiere di Siviglia. Rossini, con la Dubini e Quinola nel Candeliere diretto da De Fabritis con la Carosio. Filippeschi e Gobbi, Geronimo nel Matrimonio Segreto con Mario Rossi. Direttore d'orchestra, è la Barbieri a Praga. Chemnitz, Gera, sempre roper di Dresda, Breslavia, Cracovia, Varsavia, Brema, Dortmund, Colonia, Germania, e Karlsru. A Firenze Benoit al Cindoro nella Bohème diretto da Victor de Sabata con Mafalda Favero. Giglie Tancredi, Pasero e Don Magnifico nella Cenerentola diretto da Rossi con la Barbieri. Albanese, Saturno Meletti ed Ugo Novelli cantato anche al Teatro La Fenice di Venezia diretto da Rossi con La Barbieri, Albanese, Meletti e Novelli dove è anche Geronimo nel Matrimonio Segreto diretto da Rossi con la Barbieri. E Novelli, nel 1942 a Roma e Mengotto nella Buona Figliuola diretto da Serafine con Pia Tassinari. La Carosio, Ferruccio Tagliavini e Mariano Stabile. Cantante, Gaudenzio nel Signor Bruschino diretto da Serafine con Albanese ed Il Podestà Inverter. Opera, diretto da De Fabritis con Gianna Pedersini e Tito Schipa. A Firenze e Dulcamara nell'Elisir d'Amore con Schipa cantato anche al Teatro Vittorio Emanuele di Torino diretto da Gabriele Santini con Schipa. Ancora a Firenze diretto da Rossi e Schiavone nella Granceola di Adriano Lualdi con Emilio Renzi e Pistola in Falstaff, Verdi, con la Barbieri, Albanese, Stabile e Meletti. È stato interprete di diversi film musicali incentrati su famose opere liriche. È ricordato però soprattutto per aver interpretato il ruolo del prof. Pereghi, direttore della scuola del maestro Mombelli. Nel film del 1963 Il maestro di Vigevano. Diretto da Elio Petri ed interpretato da Alberto Sordi e Claire Bloom. Il film era tratto dal romanzo omonimo Il maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi.